Bando per le sorgenti di canistro, aperta la prima busta per le proposte economiche. Attività informativa del prefetto dell'Aquila, conclusa ieri con riunioni in diversi comuni. Reti transeuropee di trasporto, positivi commenti del consigliere provinciale Gianluca Alfonsi. Accordo a Ia de Musee e l'Istituto Agrario. Gli studenti potranno coniugare studio e radici storiche del territorio. Cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Dunque, seppur lentamente, anzi molto lentamente, prosegue l'iter amministrativo per l'assegnazione della concessione delle sorgenti Sant'Antonio Sponga di Canistro. Infatti, come abbiamo riferito anche nei giorni scorsi, ieri sono state aperte le buste B con le proposte economiche delle due società interessate. La Santa Croce e la San Benedetto. Passaggio decisivo dell'iter che si trascina ormai dal mese di febbraio del 2019, quando fu indetto il bando. La commissione presieduta da Franco Girardini, dirigente regionale del Servizio Gestione e Rifiuti della Regione Abruzzo, ha semplicemente verificato la competenza documentale. Nelle prossime settimane, invece, dovrà esaminare le due proposte dei concorrenti e designare il commissario provvisorio, che finalmente tornerà ad imbottigliare la preziosa acqua, che da 24 anni finisce nel fiume Liri, dando, si spera, anche risposte ai tanti lavoratori in attesa di ritrovare il loro lavoro perso. In gara, come detto, la Santa Croce dall'imprenditore molisano Camillo Colella, ex concessionaria della Sorgente, che poi è stata rivocata nel 2015 con conseguente licenziamento dei 75 dipendenti. E la San Benedetto che imbottiglia anche dalle Sorgenti di Popoli, che nella seduta dell'11 novembre, si era vista sospendere l'ammissione alla gara in quanto i legali della Santa Croce, invece, subito ammessa. Avevano lamentato la mancanza dei terreni su cui realizzare eventualmente il nuovo stabilimento. La San Benedetto è stata poi emmessa nella successiva seduta del 16 dicembre, a seguito della presentazione di integrazioni e requisiti formali. Così, stando le cose, se la concessione verrà assegnata alla Santa Croce, la stessa potrà utilizzare gli impianti fermi di proprietà della stessa società che fa capo all'imprenditore Colella. In caso diverso, la San Benedetto dovrà realizzare un nuovo stabilimento. Tullio Pascucci, videooperatore RAI di 69 anni, originario di Tediacozzo, ma residente a Roma, è morto sulle piste da sci nella valle d'Aosta Orientale a causa di un malore. L'uomo è stato soccorso prima degli amici che erano con lui, poi del personale sanitario che l'ha trasportato nel vicino ospedale, ma i medici non sono riusciti a salvarlo. Il sindaco di Tediacozzo, Vincenzo Giovaniorio, l'ha voluto ricordare come un caro concittadino che grazie alla sua dedizione e alla sua professionalità per la documentaristica ci lascia documenti video importanti, come quello del 250esimo della Madonna dell'Oriente e come la reportage su Don Gaetano Tantalo. I funerali si terranno domani alle ore 10, nella parrocchia di San Fromenzio, a prati fiscali di Roma, subito dopo la salma verrà tumulata nel cimitero di Tediacozzo. Con la riunione tenuta a sì questa mattina, la uova consigliare del comune di Bugnara, la presenza del sindaco di Bugnara e quelli dei comuni di Castaldieri, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Gandiano Aterno e Goriano Sicoli, il prefetto dell'Acqua e la Cinzia Turracuo ha concluso la sua programmata attività informativa e di ascolto presso tutti i comuni del cratere della provincia. In precedenza, la scorsa settimana, il prefetto aveva incontrato prima Poggio Picenze, sindaci dello stesso comune e di quelli di Capestrano, Caporciano, Navelli, Offena, Poggio Picenze, San Pio delle Camere e successivamente Rocca di Mezzo, quelli della stessa cittadina e di Ocre, Rocca di Cambio, Vindoli, Qualarmele. In questi sette incontri, nei quali il prefetto Turracuo ha avuto modo di conoscere i sindaci dei 41 comuni della provincia aquilana ricadenti nella gestione dell'ufficio speciale per la ricostruzione, riservandosi a breve la visita nel comune dell'Aquila e nelle sue frazioni, sono state rappresentate dai primi cittadini tutte le problematiche inerenti, le specifiche peculiarità con cui ogni singola amministrazione deve confrontarsi e quelle in generale attinenti alle difficoltà comuni derivanti dalla ricostruzione post-sisma e dall'isolamento delle aree interne. Il prefetto ha assicurato la sua totale disponibilità all'istituzione di tavoli tecnici di lavoro e confronto sulle tematiche riguardanti più enti e soggetti istituzionali coinvolti, assicurando altresì l'impegno personale su quelle che attengono all'immediata possibilità di intervento della prefettura dell'Aquila e fornendo nel contempo supporto ed aiuto nel superamento dei problemi e delle difficoltà riscontrate. Tutti gli incontri si sono svolti in un clima di grande cordialità e sintonia comune tra i sindaci ed il prefetto Turracuo, a cui gli stessi amministratori hanno espresso soddisfazione ed apprezzamento per queste importanti prime prese di contatto e per l'attenzione ricevuta. Oggi nel corso del processo, seguito dall'inchiesta DOVDES, presunte regolarità negli appalti per la ricostruzione post-sisma, in particolare sui puntellamenti per la messa in sicurezza degli edifici e dei palazzi subito dopo il sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009, Agostina Marcon, il grande accusatore su cui si reggeva l'accusa, si avvalso della facoltà di non rispondere. Quindi è venuta meno la base dell'architettura dell'accusa sostenuta dal pubblico ministero David Mancini, secondo cui lo stesso avrebbe consegnato all'ex vice sindaco dell'Aquila Roberto Riga 10.000 euro custoditi in una confezione di bottiglia di grappa. Cade così il teorema accusatorio in un processo su presunte mazzette per centinaia di milioni di appalti affidati direttamente tra il 2009 e il 2012, vista l'urgenza per la messa in sicurezza delle strutture pericolanti. Tutto c'è in un processo iniziato nel 2014, nel quale le accuse per gli imputati sono prescritte. Tra queste ci sono gli ex assessori comunali Pierluigi Tancredi e Vladimiro Plagidi, l'imprenditore Pasqualino Macera, l'ex cerimoniera del comune Daniela Sibilla. Nel corso dell'udienza di oggi si è registrata un'altra importante novità. L'ex vice sindaco di L'Aquila Roberto Riga, per bocca del suo legale, ha rinunciato e la prescrizione continuerà ad essere processato. Le accuse mosse dal principale test dell'accusa non sono state confermate davanti al tribunale di L'Aquila, Agostino Marcom, si è avvalso nella facoltà di non deporre. 3 marzo la sentenza definitiva. Il consigliere provinciale di Fratelli d'Italia, Gianluca Alfonsi, commenta la mozione approvata all'unanimità dal Consiglio provinciale dell'Aquila nei giorni scorsi, concernente la revisione delle reti trans europee di trasporto, le cosiddette TNT. Le reti trans europee di trasporto, ricorda Alfonsi, sono un insieme di infrastrutture considerate strategiche a livello comunitario e del cui completamento è previsto per il 2030. La provincia si associa al progetto politico del presidente Marsilio, finalizzato ad assicurare la connettività dell'Abruzzo alle maggiori direttrici di trasporto nazionali ed europee, considerato il fatto che ad oggi l'Abruzzo è esclusa dalla bozza di piano sulle TNT. La rivisitazione del progetto europeo sulle reti di trasporto, commenta ancora Alfonsi, è un'opportunità che non può essere persa dall'Abruzzo, segnatamente dalle aree interne, perché la dotazione di una rete logistica moderna e funzionale è essenziale per attrarre investimenti ed offrire una concreta prospettiva, territori in ritardo di sviluppo. Una priorità per questo governo regionale e provinciale, sottolinea sempre Alfonsi, che vuole per l'Abruzzo l'attivazione di due nuovi corridoi europei, quello adriatico, Ancona-Pescara-Brendisi e quello tirrenico Civitavecchia-Avezzano-Pescara. Ed è evidente la valenza del progetto della regione Abruzzo, occhiosa ancora Alfonsi, che vede il convinto sostegno di tutta l'amministrazione provinciale. Il rafforzamento della dorsale adriatica fino al porto di Bari svilopperà la vocazione logistica e commerciale di Pescara, Ortona e Vasto, che potrebbero così assumere un ruolo rilevante all'interno del disegno europeo delle reti di trasporto, con notevoli prospettive di sviluppo dei traffici internazionali. Nella giornata di giovedì 13 febbraio si terrà una nuova seduta della Commissione Vigilanza con inizio dalle ore 10. I punti all'ordine del giorno, come specificato dal Presidente Pietro Smargiasi, saranno tre. Due di questi riguarderanno, nello specifico, l'ASL-Avezzano-Solmona-L'Aquila. Verrà analizzato il tema della gara d'appalto per l'affidamento di servizi di portierato e complementari presso l'ASL con il Consigliere regionale Antonietta Laporta e a relazionare sul punto l'audizione del Direttore Generale dell'ASL Roberto Testa, del responsabile RUP Michela D'Amico e dell'amministratore Eagle Service Fabrizio Frattini. Si tratterà quindi delle procedure di gara per l'affidamento delle manutenzioni nella ASL con il Consigliere Americo Di Benedetto che svolgerà un ruolo di relatore. Verrà nuovamente poi ascoltato il Direttore Generale Roberto Testa. In più ci saranno le addizioni dell'Assessore alla Sanità Nicola Etaverè, del responsabile Dipartimento Tecnico ASL Fabrizio Andreassi, del responsabile dell'Ufficio Operativo Complesso Lavori Pubblici e Investimenti dell'ASL Massimo Di Pietro e dei rappresentanti delle sigle sindacali. Siglato un accordo tra il polo museale dell'AIA dei Musei, l'Istituto Agrario Arrigo Serpieri di Avezzano. Grazie a questa intesa, gli studenti dello storico istituto potranno coniugare lo studio delle più moderne tecniche nel settore agroalimentare con l'approfondimento delle radici storiche del proprio territorio. In tal senso, la dirigente scolastica Cristina Di Sabatino afferma l'importanza dello studio della storica locale come elemento di senso su cui poggiare le scelte future. Una storia da cultura di base essenziale, aggiunge la preside, per la formazione completa degli studenti che oggi più che mai hanno bisogno di riappropriarsi della conoscenza storica della cultura territoriale di appartenenza. Aprire gli spazi museali alla collaborazione con la scuola rientra tra le finalità del nostro museo, afferma Flavia De Sanctis, direttrice del polo museale. Ricorda che la struttura ospita il lapidario, le parole della pietra e il museo sul prosciugamento del lago Fucino, il filo dell'acqua. Nel lapidarium sono esposti antiche epigrafi che raccontano il passato della Marsica attraverso storie di vita privata, religiosa e politica. Mentre il museo del prosciugamento del Fucino si avvale di un allestimento moderno e multimediale per illustrare la grande opera idraulica che ha portato alla scomparsa del terzo lago d'Italia per dimensioni. Modificando indelebilmente il destino di generazioni di uomini. Una delle prime azioni previste dall'accordo consentirà agli studenti del Serpieri di fruire del museo e dei laboratori con il supporto di guide esperte. Tali visite si collocano all'interno di una specifica progettazione didattica messa in atto dai docenti dell'Istituto. Nel proseguo l'accordo prevede altre forme di scambio, tra le quali si cita per l'alto valore culturale la progettazione delle aree verdi del polo museale mediante il recupero delle specie storicamente presenti nell'area fucense a cura degli studenti del tecnico agrario. Giovedì 13 febbraio a partire dalle ore 17 le attività informatiche dell'Asla, Vezzano, Solmona e L'Aquila subiranno lo stop di circa un'ora per effettuare lo spostamento dei database dell'attuale infrastruttura a un'altra che offre garanzie di affidabilità e continuità molto superiori. L'orario delle ore 17 è stato scelto per fare in modo che il fermo possa avere le minori ripercussioni possibili sull'attività degli esportelli pubblici. L'Asla avverte la popolazione che nell'arco orario indicato potrebbero quindi verificarsi dei disagi. Il commissario straordinario del Comune di Vezzano, Mauro Passerotti, informa i cittadini interessati che è stato pubblicato l'avviso relativo ai progetti di vita indipendente. Possono presentare in stanza le persone disabili di età superiore ai 18 anni residenti nel territorio comunale aventi un valore ISEE socio-sanitario non superiore a 20.000 euro nonché ai legali rappresentanti dei prediti soggetti nel caso di disabili psico-relazionali. Il modello di domanda redatto dalla Regione Abruzzo può essere presentato entro il 21 febbraio prossimo nelle seguenti modalità. Raccomandata presso il Comune di Vezzano in Piazza della Repubblica consegna a mano l'ufficio protocollo del Comune di Vezzano da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15.15 alle ore 17 o attraverso posta elettronica certificata l'indirizzo comune.avezzano.cucchiocciolapostecert.it Il modello di domanda è disponibile sul sito del Comune di Vezzano sezione trasparenza bandi di concorso avvisi. Le ulteriori informazioni e chiarimenti saranno poi forniti dalla dipendente del Comune di Vezzano settore servizi sociali Sportello Handicap in Biavezia. La signora Maria Teresa Maceroni alle seguenti email sportellohandicap.avezzano.acu.it Don Luigi e Maria Piccoco giovedì 13 febbraio alle ore 16.30 sarà al Castello Orsini di Avezzano per dialogare con giovani insegnanti ed educatori. Qualcuno a cui guardare per una spiritualità della testimonianza è questo il titolo dell'incontro di aggiornamento e formazione organizzato dall'ufficio scuola di Ocesano guidato dal diacono Antonio Masci in collaborazione con la FISM provinciale la Federazione Italiana Scuole Materne e promosso dalla pastorale giovanile Diocesana. Don Luigi Maria Piccoco filosofo, teologo, scrittore e professore alla Pontificia Università Lateranense e all'Istituto Superiore di L'Aquila di cui è anche preside. Il sacerdote aquilano ma di origini pugliesi è inoltre titolare di una pagina social a lui dedicata che conta più di 52.000 followers e che raccoglie i suoi commenti quotidiani al Vangelo diffusi su tutti i maggiori media cattolici ed è spesso ospite di trasmissione televisiva in qualità di esperto di temi cristiani. Il suo ministro nei suoi libri, Don Luigi Maria Piccoco, si occupa di formazione e spiritualità cristiana e rappresenta una delle voci più giovani e attorevoli nell'attuale panorama cattolico nazionale ed internazionale. Già attore di numerosi e fortunati testi, il suo ultimo libro, Qualcuno a cui guardare per una spiritualità della testimonianza, è stato pubblicato lo scorso anno per l'edizione Città Nuova. Si tratta del volume donato dal Papa lo scorso 21 dicembre ai Vescovi Cardinali della Coria Romana ricevuti in udienza per gli auguri natalizi. Ed è proprio a partire dai capitoli che compongono il suo libro e riflettono intorno ad alcuni temi chiave che lo sostanziano, che Don Epicoco detterà la sua relazione sul tema della tesimonianza, declinato nei vari ambiti della vita del credente e alla luce delle relazioni significativi che in essa si intrecciano fino ad aggiungere ad una ricostruzione del profilo umano e spirituale del testimone cristiano. È frutto di un percorso partecipato che ha coinvolto tutti gli associati e è nato sotto il segno della partecipazione il programma dell'attività dell'anno 2020 del Centro Socioculturale Per Sempre Giovani a Ciascao di Paterno di Avezzano. Il programma ha alla sua base il benessere sociale collettivo sia degli associati che dei propri familiari e amici. Nelle intenzioni del Presidente annunziata Laurenzi e dell'intero direttivo, le attività previste dovrebbero coinvolgere tutta la comunità e gli enti pubblici e privati. Il documento che indica le azioni da attuare nel corso dell'anno 2020 nell'ambito delle aree di intervento sociale dai bambini agli anziani, dai disabili alle situazioni di povertà è stato infatti messo appunto attraverso un percorso di confronto partecipato che in poco più di un mese si è sviluppato in incontri tecnici e tavoli tematici. Ma vediamo quali sono i principali punti di sviluppo della programmazione di quest'anno. Nel mese di febbraio gli appuntamenti sono i seguenti. Il 20 cena di carnevale il 27 avvio progetto teatro compagnia La Bottega dell'Arte il 28 informazioni domestiche con Comitato Feste e Paterno e nel mese di marzo invece segnaliamo il 2 informazioni domestiche Comitato Feste e Paterno il 3 proiezione documentario Il pescatore del Fucino l'8 festa della donna il 22 l'assemblea del centro socio-culturale il 28 il consiglio direttivo provinciale Ancescao e il giorno successivo quindi il 29 il progetto pasquale l'1, 2 e 3 maggio gita invece al lago di Garda Verona Padova i luoghi dell'amore e il 14 maggio gita Pompei le nuove scoperte archeologiche il 24 maggio concorso torte salate e dal 28 giugno all'11 luglio vacanze mare terme salute benessere e il 4 ottobre festa dei nonni con non insegnami a cucinare nonni e nipoti tradizioni le altre attività sono in fase di progettazione finalmente l'Abruzzo torna a contare in Europa il presidente della regione Abruzzo Marco Marselio è stato infatti eletto vicepresidente del gruppo dei conservatori e riformisti europei al comitato delle regioni dell'Unione Europea un riconoscimento politico molto importante che offre al presidente l'opportunità di rappresentare con ancora maggiore autorevolezza le istanze della nostra regione Abruzzo il comitato europeo delle regioni composto dai rappresentanti eletti a livello locale e regionale proveniente da tutti gli stati membri assume un ruolo determinante e strategico per garantire il confronto tra gli enti locali e l'Unione Europea nei procedimenti legislativi l'elezione di Marsilio vicepresidente dei riformisti uno dei più importanti gruppi parlamentari del Parlamento Europeo dimostra come l'ottimo lavoro del presidente in questo suo primo anno alla guida della nostra regione lo ha portato ad essere apprezzato in Europa fino a diventare un grande punto di riferimento per i rappresentanti delle altre regioni Fratelli d'Italia augura al presidente Marco Marsilio un buon lavoro per questo nuovo e prestigioso incarico di cui ne beneficerà sicuramente l'Abruzzo ed entra nel vivo il progetto di multidisciplinarietà culturale proposto da Harmonia Novissima per incentivare l'interesse dei più giovani alla musica classica al liceo classico di Avizzano infatti anche grazie alla collaborazione con il dirigente scolastico Anna Maria Fracassi che subito ha sposato con interesse e partecipazione la volontà dell'Associazione Culturale Marsicana i giovani studenti potranno assistere a vere e propri concerti con protagonisti musicisti apprezzati in tutta la scena abruzzese una terza edizione in grande stile con grandi ambizioni quella proposta da Harmonia Novissima realtà culturale tra le più affermate nel centro Italia che sempre più rapidamente si sta ritagliando il ruolo anche su scala a livello nazionale e internazionale grazie alle numerose proposte artistiche offerte nell'ultimo decennio la collaborazione con il liceo classico di Avezzano andrà avanti per tutta la stagione comprendendo un totale di otto appuntamenti comunque il progetto verrà presentato giovedì a partire dalle ore 17 alla Ulamagna del liceo classico alla presenza del dirigente scolastico Anna Maria Fracassi ma anche del maestro Giuseppe Berardini direttore artistico progetti speciali del Conservatorio Casella di L'Aquila e questa era l'ultima notizia quindi il giornale termina qui prima dei saluti vi ricordiamo come sempre che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antena2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antena2 Avezzano dove è possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci grazie per averci seguito anche oggi grazie per averci seguito anche oggi grazie per averci seguito anche oggi grazie per averci seguito anche oggi